Alla fine hanno parlato in contemporanea. Mario Draghi a Palazzo Kiji con il primo ministro giapponese Fumo Kishida, l'evoluzione della guerra, le via della diplomazia, la cooperazione economica e commerciale. Giuseppe Conte nella nuova sede di Via Campo Marzio dove ha presentato la scuola di politica dei 5 stelle e 10 docenti, tra cui molti premi Nobel che cureranno le lezioni. L'ex premier è riuscito ad accumulare il necessario ritardo per far coincidere la sua performance di leader politico con la conferenza stampa di due leader. E' stato un classico della comunicazione contiana, puntare sempre al massimo dell'audience. Le dirette Facebook erano sempre le allora di cena dell'Italia in lockdown e alla migliore visibilità. Ora che non è più premier, l'obiettivo è un po' più difficile. E però ci prova lo stesso. Quasi sempre. Nell'unico modo possibile, accavallando i tempi, alzando i toni. E la scelta del lessico. Ieri, rivolto Draghi, ha parlato di, rappresaglia, e di, e ricatto, in relazione alla bocciatura del super bonus edilizio al 110%. E ci ha messo pure un ultimatum, guai se sarà messa la fiducia sul decreto aiuti per famiglie e imprese, quello da 14 miliardi che il movimento non ha votato perché contiene la norma sul termovalorizzatore a Roma. Una settimana fa, circa che poi si perde anche il conto delle intemerate verbali, sempre Conte aveva detto, mi incanteno davanti a Palazzo Chigi se non ci ascoltano sul reddito minimo. Regola 1, rubare e cercare di, la scena. Regola 2, sta a metà tra il vittimismo e il tentativo di tornare ad un ribellismo che vorrebbe collocare il movimento non solo alle origini ma a sinistra del PD e più a sinistra di articolo 1 che tanto è già tornato nel PD, racconta un deputato in una pausa dell'aula che sta votando l'ennesimo decreto riapertura e fine dello stato di emergenza. L'apoteosi ieri è stata quando, nell'arco della stessa conferenza stampa, se ne è uscito con la seguente affermazione, inizio a pensare che qualcuno voglia spingere il movimento fuori dal governo.